Non c'è nulla di ufficiale sul calendario degli eventi estivi ad Alba Adriatica, ma sono già molti i mogugni e lamenteri alimentati dalle indescrizioni che circolano in città, tra questi quelli dell'Associazione Genitore del Piccolo Coramadeus, ormai affermati a livello nazionale, già invitati per eventi in molti comuni vicini, ma non sarebbero stati invitati dalla loro amministrazione, della serie Nemo Profeta in Patria. Ci sono poi i commercianti di Villafiore e del Comitato Propineta, è imbarazzante che il sindaco ed assessore non abbiano ritenuto opportuno consultarli. D'altronde sono anche i diretti interessati degli eventi estivi, oltre che indirettamente i finanziatori, quali cittadini o commercianti contribuenti. Diverso trattamento e considerazione invece sarebbero stati riservati alle associazioni politicamente vicine al sindaco ed assessore al commercio. Un impasse davvero sgradevole. Il commento di Giuliano Marsili, rappresentante di alcune associazioni al Benzi, che giustifica e conferma la scarsa considerazione che i cittadini di Alba Adriatica hanno per l'amministrazione Giovannelli, probabilmente la meno brillante nella breve storia, poco più che cinquennale, della città costiera vibratiana.